Alcune riflessioni sul corpo direttivo da parte di un pimo, non stiamo a ripetere ovviamente cosa sono i pimo. Con questo approccio c'è altrone, ripeto non sono parole mie, dopo metterò le virgolette anzi, rischia di essere apposta da di se stesso pubblicando un rapporto mondiale 2020 catastrofico che di fatto non può essere citato in congregazione nei discorsi fra i fratelli, in un'atmosfera in cui ogni rigore logico viene rimosso in nome del mantenimento di una unità di intenti che esiste solo nella fantasia. Ecco, in questa distopia della ragione cominciamo a vedere parti plurigemellari in situazioni grottesche. U-turn sui vaccini e dogfight fra culto watchtower e antivax. La situazione contingente, le recenti prese di posizione del corpo direttivo in merito al vaccino hanno fatto emergere conseguenze interessanti da osservare. D'improvviso il ritardo mentale della fratellanza è stato spaccato da una dissonanza cognitiva difficile da ricomporre perché di fatto crea un loop di dissonanza cognitiva. Dopo decenni di martellamento su come esegrare ogni aspetto della conoscenza del mondo, della comunicazione del mondo e ogni sorta di prodotto del mondo, innescando favorendo apertamente prese disposizioni a prioristiche di complotto satanico pervasivo, all'improvviso le esigenze dell'organizzazione cambiano e il corpo direttivo si aspetta che cambi di conseguenza il modo di vedere il mondo da parte dei fratelli. Il vaccino diventa cosa buona e ci si può fidare dei numeri che il corpo direttivo comunica riguardo all'efficacia i numeri li hanno rilevati i fratelli. Ecco questa cosa fa già ridere da sola, io mi immagino come qualsiasi fratello che abbia fatto l'usciere abbia presentato numeri al sorvegliante relativamente a qualsiasi attività abbia ben presente come condurre operazioni di chirurgia estetica sui numeri quando mai sono emersi inattivi alla visita quando la congregazione ne aveva di ogni? In sei lustri non mi è mai capitato di sentirne. Ora l'istituto superiore di statistica Watchtower ci informa che i numeri sono affidabili, mi immagino a costoro avvertire la fregatura sulla schiena esattamente come immagino l'avvertirono i generali che moltiplicavano i carri armati alle parlate militari di Mussolini facendoli girare in cerchio quando fu effettivamente dichiarata guerra. Il problema è che se incita la gente a non pensare c'è una serissima probabilità che questi ti seguano e non è che puoi riaccendere i cervelli alla bisogna, un'eventuale riaccensione non giova mai a favore della causa. Quindi ora abbiamo due ideologie culti che hanno convissuto pacificamente per decenni e che all'improvviso si trovano contropposti, entrambi si alimentano e vivono di bias di conferma. La fratellanza deve reperire conferme dell'indiscutibilità delle scelte del corpo direttivo che ora sono inconciliabili con l'esigenza di convincersi che l'altra ideologia è comunque valida. Uno stallo alla messicana nella quale molti nominati cercano riuscire cercando di ottenere esenzioni di tipo medico per patologia dalla vaccinazione. Non vi dico lo sgomento di uno di loro quando gli dissi che la patologia di cui soffriva e che avrebbe portato l'attenzione del suo medico curante per ottenere una sorta di certificazione dell'impossibilità a vaccinarsi era di fatto una delle condizioni per la quale avrebbe potuto saltare la coda dell'età e vaccinarsi come fragile. Continua.